Ciao a tutti, io sono Ramona Babassano e insieme ad altre persone ho fondato l'ecovillaggio dei sogni di chiunque, quello per andare a svernare facendo cose utili al raggiungimento degli obiettivi del millennio, i Sustainable Development Goals, implementando tutto quello che è possibile fare per raggiungere sostenibilità in Giamaica. Abbiamo creato da ormai 4 anni un ecovillaggio in Giamaica destinato a ospitare persone da tutto il mondo che vogliono venire a fare una vacanza intelligente, nel frattempo lasciando le loro conoscenze, oppure a vivere lì, anche se come stranieri non possiamo stare più di 3 mesi o 6 se uno entra e riesce o possiamo comunque crearci un lavoro per avere la possibilità di diventare cittadini giamaicani. Il concetto di Jamada, il nome deriva da Jam come Giamaica e come Jamming, fondersi insieme, e Madda che è la pronuncia in patois, che è il deletto giamaicano che è madre, è un omaggio alla madre terra e quindi il nostro progetto è quello di offrire attività di turismo esperienziale ai viaggiatori che vengono nella bellissima ridente località di Treasure Beach e nel contempo finanziare attività e realizzare attività di formazione in permacultura, agricoltura sinergica, agricoltura sostenibile e rigenerativa per riuscire a creare, mentre implementiamo la visione 2030 che vuole che la Giamaica diventi il paese del mondo di scelta per vivere e fare una famiglia e fare business in maniera etica e sostenibile ci proponiamo di rappresentare un esempio concreto, una buona pratica ripetibile di passaggio tra la teoria e la pratica per essere capaci di produrre good vibes in ogni contesto, condividendo conoscenze e competenze creando emozioni da condividere veniteci a trovare, la pagina Facebook è Jamada, Jamada Jamaica, Permacultural Park l'email è jamadajamaica.gmail.com oppure la mia è rebavassano.gmail.com volontari, viaggiatori, persone colte, digital nomad, gente che sa fare delle cose venite in Jamaica